Ciao a tutti, oggi sono qui con un nuovo video, sarà un video velocissimo come anche gli ultimi che sono stati, perché oggi voglio fare una cosa completamente senza forno, completamente senza lattosio, senza glutine e completamente vegana, quindi una cosa perfetta, e farò i tartufini al cioccolato e nocciole, ci serviranno pochissimi ingredienti che vi dico subito, allora ci serviranno 200 g di zucchero di canna, io ho scelto quello integrale, voi potete anche scegliere lo zucchero di canna normale, 200 g di farina di nocciole, se voi avete le nocciole normali, basta che le tritate e viene la farina di nocciole, 400 g di cioccolato fondente che io ho già tagliato in pezzettini, e 300 g di latte, io ho scelto questo qui della Alpro, che è alla nocciola, bevando alla nocciola e quindi voglio provare questo, se non avete questo qua e non volete usarlo, basta usare un semplicissimo latte di soia o il latte che preferite, ora possiamo iniziare, allora prima di tutto se voi avete le nocciole e se voi avete lo zucchero di canna normale, mettete tutto dentro un mixer e frullate tutto così verrà una farina di zucchero di canna e una farina di nocciole, in una dentola botolino, mettiamo tutto il cioccolato e ci aggiungiamo all'interno latte, a questo punto portiamo sul fuoco a bagnomaria e lo facciamo sciogliere dolcemente, quando si sarà tutto sciolto, il cioccolato ovviamente, vi farò vedere come fare il passaggio successivo, ok dopo aver sciolto tutto il cioccolato, ecco qui il risultato, l'ho tolto dalla pentola, l'ho messo dentro questa ciotolona molto più grande e ora continuiamo con la ricettina, ora a questo composto qua aggiungiamo la farina di nocciole, prima aggiungiamo lo zucchero, aggiungiamo lo zucchero, amalgamiamo, a questo punto io tolgo la spatola e uso la frusta e a questo punto aggiungiamo tutta la farina di nocciole, ok come vedete il composto si è comunque già un po' diventato non così liscio come prima e un po' più compatto, ok ora questo impasto lo lasciamo riposare in frigo per praticamente tutta la notte o se riuscite anche 24 ore, se avete più tempo fate anche 24 ore, se no tutta la notte va benissimo perché si deve veramente solidificare perché se no non riuscite a formare le palline, quindi ora lo metto in frigo e noi ci vediamo domani che per voi sarà praticamente tra un secondo, ok eccomi tornata, il mio composto adesso l'ho messo dentro quest'altra vaschetta perché dentro il frigo la tracciatora non mi stava, ma comunque questo qua è il composto, è stato in frigo per un giorno, quindi 24 ore, e niente ora facciamo i nostri tartufini, qui ho delle nocciole tritate e qui ho del cacao per ricoprirli, ma se voi volete usare qualsiasi altra cosa siete liberissimi di farlo, io scelto queste due opzioni qua, con un cucchiaino preleviamo un po' dell'impasto, lo mettiamo così e facciamo praticamente lo arrotoliamo e facciamo una pallina, questa qui vi sporcherete ma è normale e la pallina poi la mettete nella decorazione che volete ed ecco qua il nostro primo tartufino, ne faccio un altro con il cioccolato per farvi vedere ed eccolo qui e ora continuo a farli per tutti, la consistenza appunto deve essere lavorabile con le mani perché sennò non riuscite assolutamente a formare le palline, quindi ora le faccio tutte e me ne faranno abbastanza, soprattutto se le faccio così piccoline, magari voi vedete un attimino se fate più grandi o più piccole in base ai vostri gusti, ora però vorrei assaggiarne una, quindi faccio un'altra perché sono troppo carini e adesso me l'assaggio tutta, si scioglie in bocca, buonissima, ricetta, magari vado a lavarmi le mani, almeno avere le mani lavate per la fine del video sarebbe meglio, quindi mi sono lavata le manine e niente, fatemi sapere cosa ne pensate di questa ricettina, veramente sono troppo carini, adesso vabbè li vedete un po' così, però secondo me sono troppo carini soprattutto quello con la nocciola è davvero carino, quindi fatemi sapere cosa ne pensate, sono molto molto buoni ve li consiglio davvero tantissimo e niente, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, mi raccomando per non perdere le prossime video ricette e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!